Ma il movimento come sta? Molto bene, molto bene. Noi dobbiamo soltanto fare una cosa, raccontare la nostra idea di paese con i fatti. Io sono qui oggi per raccontare uno dei fatti del movimento, tagli degli stipendi che fanno nascere nuove imprese, che sono un'idea di paese. Non vogliamo fare chiacchiere, non vogliamo dire faremo, faremo, faremo. Abbiamo fatto qualcosa, l'abbiamo fatto con 130 parlamentari e poi allo stesso tempo oggi è una giornata non definirei importantissima perché comunque i problemi di povertà delle periferie di Roma e i problemi di povertà delle periferie di questo paese restano. Ma abbiamo dimostrato che quando lo Stato fa lo Stato non ci si inchina ai costruttori e ai palazzinari. Lo stadio si fa, ma si fa secondo le nostre regole, secondo i nostri principi e ci fa piacere che l'associazione, la squadra Calcio Roma sia venuta incontro a questa nostra richiesta. E quindi si farà uno stadio, ma le opere a contorno avranno il 50% in meno di cubature. Questo è molto importante. Perché non l'hanno fatto quelle di prima? Perché quelle di prima avevano permesso che si facessero il 50% di cubature in più e la classe energetica degli edifici per l'impatto ambientale fosse più bassa? Noi l'abbiamo ottenuto. E questo è un messaggio anche a tutti i nostri consiglieri comunali e regionali che sono all'opposizione in questo momento. Non ascoltate i vostri sindaci, i vostri presidenti di regione quando vi dicono non si può fare altrimenti il privato scappa. No, quando sei il pubblico, quando sei il comune, quando sei la regione ti siedi al tavolo col privato e trovi un accordo che debba tutelare il nostro territorio, il consumo di suolo e il dissesto idrogeologico. E questo noi l'abbiamo fatto. Quindi non siamo quelli che cambiano idea il giorno dopo le elezioni ma portano avanti i propri principi e non siamo neanche quelli che vedono nel privato il demone. Anzi, non è un tabù contrattare con un privato. L'importante è che la contrattazione vada verso gli interessi dei cittadini.